Un esercito di circa 5.000 volontari sabato prossimo saranno presenti in oltre 430 supermercati tra Abruzzo e Molise per invitare a fare la spesa per chi ne ha bisogno. 27esima edizione della colletta alimentare sabato 18 novembre organizzata su tutto il territorio nazionale dalla Fondazione del Banco Alimentare con una massiccia partecipazione anche in Abruzzo. I dettagli nella conferenza stampa di questa mattina presso la sede del Banco Alimentare di Pescara alla presenza del Presidente del Banco Alimentare Abruzzo e Molise Antonio Dionisio. Prezioso perché questo ci permetterà di continuare a svolgere tutte le attività che quotidianamente facciamo cioè quella di aiutare chi aiuta sostenendo le associazioni che sono convenzionate con noi e che quotidianamente aiutano le persone in stato di necessità nella nostra regione. Per questo sottolineo il fatto che la giornata nazionale della colletta alimentare è un evento di solidarietà vicino al territorio perché la spesa, le spese donate verranno poi ridistribuite sul nostro territorio quindi nei comuni in cui sono presenti le associazioni che quotidianamente collaborano con noi e che aiutano appunto le persone bisognose del nostro territorio. Un gesto di popolo come ha voluto sottolineare il responsabile della colletta Mauro Morelli perché è trasversale, supportato da persone di ogni tipo di orientamento grazie ai partner come Lions Club, gli Scout, le associazioni nazionali carabinieri in pensione bersaglieri, l'esercito, poste italiane ed aziende come Amazon Geldi e Taiprora ma soprattutto gli studenti delle scuole. Perché ci interessa davvero che i ragazzi magari per un giorno abbandonino gli smartphone e i videogiochi e si dedichino ad un gesto di solidarietà come questo con una in presenza finalmente nei supermercati incontrando persone. Questa è una cosa che ci inorgoglisce parecchio perché le scuole ci rispondono sempre in maniera maggiore. Pensa che a Pescara sono più di 300 i ragazzi delle superiori che sabato saranno con noi alla colletta ma in tutte le realtà della regione, Abruzzo ma anche del Molise, le scuole sono sempre più coinvolte, hanno i professori, gli studenti hanno sempre più voglia di partecipare ad un gesto come questo.